bentornati in questo nuovo video sono sempre michele like commento e condividete allora sono arrivato a questo pokestop vediamo cosa c'è allora abbiamo pokeball 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 ok prima ho catturato anche un altro pokemon ekans oddio normalmente di livello 15 pokeball ottimo vediamolo cioè ragazzi guardate sembra uno stronzo non per dire però ok vediamo che possiamo fare io direi di vedere se troviamo altri pokemon qua sulla strada magari spucchiamo quel game for game stop quel po' questo sento servato ragazzi per ora qui è libero siamo a livello 4 tra un livello potremo affrontare le palestre e qui sono quasi tutte già occupate e non so come sia possibile non sto trovando nessun pokemon ragazzi vediamo quella cosa ok c'è qualcosa no vedere c'è qualcosa di essere rapinato ragazzi allora vediamo dov'era era più di qua se non sbaglio vediamo un po' se lo troviamo mi segna qualcosa però non esce niente non ho capito ancora che serve tappare sullo schermo lo troviamo? niente niente proseguiamo ragazzi andiamo un po' questo ce ne sono due di qua attenzione latata prendiamolo ora sono in casa preparata ragazzi attenzione c'è qualcuno che mi osserva preso qui c'è un altro qui c'è un altro oddio si è buggata la schermata ragazzi comunque vedete anche noi andiamo ok dai ottimo sono verso il livello 5 ragazzi andiamo al pokestop ok vi ho detto perdonatemi se non parlo molto però essendo da solo sembro un pazzo anche per l'orario perché sono quasi 11 vediamo qualcuno oddio questo l'ho già preso però prendiamolo di nuovo dai preso? ma perché si bugga lo visuale? vabbè sarà il buio forse infatti ragazzi ho preso anche questo vediamo questo siccome ce l'ho già che possiamo fare? vediamo vabbè per ora andiamo avanti vediamo che c'è qui ok amici altre tre pokeball prese io che cavolo si faceva a mandarlo al professore oddio c'è un pokeball ecco 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 sono andato fortissimo a trovare pokemon minchia ok amici questo è tutto da pokemon go da questo gameplay notturno ok non c'è nessuno sono da solo bene fatemi sapere se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like un commento e condividete il video a tutti i vostri amici ok ragazzi passate anche da facebook bene ci vediamo al prossimo video ovviamente sempre su addicted to games ciao ragazzi ciao